Ma questa giornata cade proprio a pagiolo, perché? Perché i ribassi di ieri, di stanotte, durante il sabato, ci portano un problema in superficie, fanno emergere questo problema, un problema molto rilevante a livello di trading, che è quello dei bias cognitivi, del comportamento dei trader, degli investitori proprio durante queste fasi. Quindi, attenzione, non sono esclusi neanche gli holder e assolutamente non sono esclusi neanche gli investitori di lungo periodo e vi dirò anche perché. Era il video che vi avevo preparato per oggi, un video a cui tengo tantissimo perché veramente vi fa comprendere tante cose e soprattutto come andarle a risolvere. Probabilmente molti di voi in questa fase, in questo momento, stanno provando una serie di emozioni particolari. Chi magari le nega, chi dice no, non è vero, chi dice ma io non guardo, eccetera, ma in linea di massima o nell'uno o nell'altro caso, le emozioni sono impossibili da non provare. E quindi tanti bias cognitivi si stanno insinuando in questo momento nella tua mente. Ed è questo il problema grave dell'investimento nei mercati finanziari e anche del trading. Che quando si inseriscono questi bias cognitivi all'interno della parte razionale dell'investitore e del trader, fanno commettere una serie di errori importanti, grossolani, ma assolutamente impattanti in termini di lungo periodo. Quindi modificano molto quella che è la tua operatività, quello che sono gli investimenti di tutti i trader, di tutti gli investitori e li cambiano anche per tanto, tantissimo tempo, producendo di solito danni. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ieri c'è stata una brutta notizia relativa alla questione della guerra in Israele che prende una piega un po' negativa, abbastanza negativa con l'intervento dell'Iran. Ancora non ci sono dati sufficienti, non parliamo di questa cosa oggi, però ovviamente, ovviamente non può che preoccuparci in maniera estremamente importante una questione di questo tipo. Gli unici mercati aperti sono stati quelli delle criptovalute nella giornata di ieri, guardate Ethereum per esempio, quello che ha combinato con una fase ribassista, tra le altre cose un po' attesa, ne avevamo parlato, comunque meno 7%, la fase attuale coincide alla perfezione con le attese cicliche di cui abbiamo parlato nei precedenti video, cioè quelli di andare ad avere una fase laterale ribassista in questo momento, dove poter poi mettere mano, soprattutto negli investimenti relativi alle altcoin e alle cripto, per creare l'ultima grande occasione, l'ultima dip del pre-Burnance. Ovviamente la Burnance ci sarà, la dip c'è stata, è finita? No, secondo me ci vuole ancora un po' di tempo, ma ne parliamo nel video di domani, quindi ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatevi poi i pollicioni perché sto registrando questa cosa la domenica e vi assicuro, lo volevo fare, ho visto il video, visto quello che è successo e bam, ve lo faccio, anche perché vi racconto un aneddoto proprio in questo video, uno dei bias cognitivi io l'ho avuto ieri notte, stanotte, durante una festa e vi faccio sorridere perché ragazzi è troppo simpatico. Allora, i bias cognitivi si sono insinuati nella giornata di ieri e soprattutto quelli di cui vi voglio parlare oggi sono questi, Bitcoin senza errori, vince i bias cognitivi nel mondo delle criptovalute, ce ne sono quattro che andremo ad analizzare ragazzi, tutti e quattro hanno poi una soluzione che già vi spoilerò, la formazione, la chiarezza e l'eliminazione di tante informazioni che sembrerà strano, meno e meglio minimalismo nell'ambito del trading e vi faccio capire anche perché e poi capacità esperenziali, dovete mettere le mani in pasta in questa roba, non c'è altro modo di eliminare questi bias cognitivi. A tal proposito ragazzi, come sapete, è la settimana, si chiude domani, quella della formazione per quanto riguarda Trading On, quindi c'è l'ultima tranche di offerte per quanto riguarda il corso Basic It's Trading Time 2.0 con l'ultimo grande sconto, in questo caso 1097, ma attenzione perché tutti quelli che acquisteranno il corso, se rientrano nei primi 10 utenti avranno diritto ad avere un bonus di 100 dollari su BitGet ragazzi, quindi basta inviarci una mail, registrarsi su BitGet dal link che vi mandiamo e vi danno 100 dollari per recuperare ovviamente dal costo del corso. Questa è una super offerta ragazzi, quindi ve lo dico, avete 100 dollari comunque di sconto da BitGet anche da questo tipo di pricing, perché è importantissimo proprio ragazzi la formazione. Beh, più chiaro di così non so come essere, avete visto in tre giorni tutto quello che io vi ho detto nel video di venerdì, andarsi a sviluppare e il motivo che mi ha spinto anche a fare questo video, già l'avevo in testa, era proprio spiegarvi come la preparazione, la formazione, l'analisi, l'esperienza di uno scenario vi va ad eliminare il più grande problema di tutti gli investitori e ripeto, nessuno escluso, compresi anche chi fa holding e gli investitori di lungo periodo, e ve lo va ad eliminare completamente o comunque ad attutire in maniera importante e l'unico modo è quello di essere formati, preparati in quello che vi interessa poi, nelle strategie che vi interessa a voi, ma col mindset predisposto a far bene ragazzi e questa cosa è molto molto importante. Quindi vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il corso scade domani, mancano solo un giorno circa e qualche ora, mi raccomando ragazzi, l'ultima chance, forse, si sta andando a verificare veramente sulle dip come avevamo atteso, è il momento di mettere mano nel pasta, nell'impasto, nel fare la crostata, non è domenica la crostata, e capire questa cosa perché può essere veramente un change importante nella vostra vita, in questo momento, voi sapete, questo corso c'è da tanto tempo ragazzi, ma questo momento è molto più importante degli altri, proprio in virtù di quello che sta capitando e di quello che erano le attese di cui vi ho parlato, sto andandovi la testa e continuo a farlo ovviamente, anche dopo la fine della settimana dei corsi. Allora, vi faccio comprendere la prima cosa, ieri il primo bias che molti di voi hanno iniziato a provare senza ombra di dubbio, questo qui, cioè il comportamento di Greg, seguire le azioni altrui quando in molti si comportano nello stesso identico modo. Questo tipo di scenario che viene definito bandwagon è uno scenario molto molto particolare perché fa sì che si vada a fare l'effetto che avete visto quasi, facciamo così, vi metto un grafico a 15 minuti ed è quello che si va a creare in pratica quando avvengono i crash in questo modo, cioè l'effetto di andare a continuare il trend ed è quello che vedete in questi frangenti. L'effetto bandwagon o il comportamento di Greg rappresenta il motivo per il quale i trend all'interno dei mercati finanziari sono lunghi e si autoalimentano perché tutti gli investitori, tutti i trader, ripeto, nessuno escluso, ok, i holder non fanno questo tipo di errore perché non operano, ne fanno un altro che adesso ve lo dico, però sostanzialmente lo subiscono, poi si obbligano ad operare, dandosi una giustificazione di massima, c'è un trucchetto che viene utilizzato dagli holder e dagli investitori classici in generale ed è un trucchetto banale, funziona, è potente, ma è assolutamente un trucco, non è assolutamente una cosa oggettiva, poi però di questo si può dire tante cose, ci sono tante opinioni. Detto questo qui in pratica, tutti questi comportamenti di effetto Greg si possono risolvere solo ed unicamente avendo a che fare con una community che ha delle opinioni differenti sullo stesso tipo di scenario e in questo caso per esempio noi utilizziamo l'Academy in questo contesto perché nel momento in cui si vede un crash importante come può essere quello che abbiamo visto su Ethereum, ma non è solo Ethereum ragazzi, vi faccio vedere anche le altre cripto, per esempio anche Solana ha fatto veramente numeri pesanti, un po' meno Bitcoin come sempre, ma anche Solana si è sparato questo candelone che tra le altre cose nella giornata inclose è stato un meno 9,60, ma se noi andiamo a ragionare in termini di oscillazione siamo arrivati a un meno 24 ragazzi, meno 24 all'interno di una singola giornata, da soli davanti a un PC, a un telefono, mentre state mangiando la pizza o vi bevete l'amaretto post cena, come lo risolvete? La giornata della rovina, è inutile che dite un po' sì, un po' no, ma è in questo modo, l'effetto bandwagon si combatte avendo una community, cioè un posto dove si possono scambiare diverse informazioni e si riesce a stare molto più tranquilli e soprattutto a non seguire l'effetto gregge, non entrare in panico perché l'effetto gregge si alimenta dal panico, nel momento in cui siamo in panico che vediamo una serie di cose sul grafico eccetera, possiamo commettere errori gravissimi come per esempio vendere una posizione se non era presente all'interno della vostra strategia, ma solo perché impanicati completamente oppure peggio ancora avere l'effetto di sta crollando tutto. Quanto di voi hanno detto ieri questa frase? Sta crollando tutto! Eppure dalla scorsa settimana vi ho fatto la testa così dicendovi stiamo attendendo una fase di ribasso, stiamo attendendo una fase di ribasso perché dobbiamo accumulare, dobbiamo accumulare che non vuol dire accumulare ora sulle dip, vuol dire attendere un movimento in inversione ancora e troppo presto, ne parliamo domani. Però ragazzi concettualmente il discorso è perché chi ha una community ha più stabilità e chi invece da solo non ce l'ha, perché riesce ad avere le opinioni degli altri e le opinioni degli altri spesso a un certo punto in una community di un certo livello sono contrastanti. Questo contrasto è positivo perché vi va a inserire un germe di riflessione e l'effetto bandwagon, l'effetto gregge, scompare ragazzi anche perché i bias cognitivi sono tutti inventati dal nostro modus di pensare molto arcaico sarei di dire è il nostro cervello che cerca di proteggersi. Quindi effetto gregge, bandwagon si risolve con una super community. Su questo però effetto ragazzi io vi racconto il mio aneddoto perché ieri ero ad una festa quindi stavano servendo i nostri piatti eccetera e c'era un primo stellare buonissimo. A basso di pesce, sennò che eravamo saluti a tavolo con molti amici, questi amici fanno bis, 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 io sono dietro, io sono nato a dieta sono nato all'alimentazione controllata perché purtroppo è così, allora dico no ragazzi non posso no ragazzi non posso però in pratica tra il gusto di mangiare sapete che cosa significa sono un grande buon gustaio e tra il concetto del dire effetto gregge, alla fine ho fatto tre bis dello stesso piatto, erano pochissimi però eh adesso mi giustificano giusto gli assaggini da cucchiaio quelli da ristorante però ragazzi sono stato vittima dell'effetto bandwagon non rispettando quello che erano i miei principi, le mie strategie cioè non andare a mangiare troppo quando il weekend, questo era. A un certo punto effetto bandwagon tutti facevano il bis, tutti facevano il tris e io stavo lì e mi dicevano no pure tu, no pure tu e allora io vai di effetto bandwagon effetto gregge. Ragazzi siamo tutti vittima di questo effetto, se ci fossero state opinioni contrapposte in quel tavolo qualcuno diceva no io non lo faccio perché sto a dieta io magari mi sarei accostato a quel pensiero e non avrei fatto l'errore, è banale, è semplice e lo capite benissimo, provate a ricercarlo ogni giorno ne esce fuori anche a voi, magari qualcuno, ok? Troppo figo questa cosa, aneddoto proprio di ieri. Secondo sistema di bias da sconfiggere a tutti i costi, l'ancoraggio, accade quando i trader danno troppo peso ad una certa informazione o un movimento di prezzo nel breve periodo e senza guardare ovviamente lo scenario comprensivo. Allora qui, ah sì, il lungo periodo non c'entra niente con un contesto del genere, andare a dire questo è breve periodo, lo risolvo perché poi nel lungo periodo è una pavola come Cenerentola, I Settenani, Biancaneve e compagnia, bella, non c'entra niente, vi state inventando un futuro dove tutto si risolve e lo avete inventato voi, perché quel futuro non è mai esistito e non esisterà forse mai, questa cosa non si sa. Come si risolve veramente l'effetto dell'ancoraggio? Andando ad avere uno scenario predefinito. Quando andiamo a fare le analisi degli scenari, che ovviamente facciamo costantemente, non è che noi andiamo alla ricerca del santo graal per prevedere il futuro, ecco la banalità di chi non comprende assolutamente nulla o ha un approccio non professionale ai mercati finanziari e continua a dire alle previsioni non si possono fare le analisi dei grafici inutili, ma quando mai? Perché nel momento in cui io vado a ragionare creandomi diversi scenari, elimino il bias cognitivo dell'ancoraggio, questo è quello che sto andando a fare, cioè non do peso a questa informazione perché semplicemente fa parte di uno scenario che io ho già delineato, in pratica ho acceso la luce all'interno di una camera, questo concetto fa sì che il mio bias cognitivo che comunque subisco, ho ragione inventandomi la favola di Cenerentola del lungo periodo o no, ma in un modo o nell'altro io comunque lo sto subendo quella bias. Ora c'è chi ragiona appunto ragazzi, inventandosi la favola in lungo periodo risolve tutto. Vabbè, allora sarà stato così sicuramente nel mondo e io sono favorevole a questo, lo sapete benissimo, sono un pensatore positivo quindi lo sapete bene che io ho ragione così, però bisogna anche ragionare e dire a livello tecnico-scientifico. È una cazzata colossale perché nessuno lo sa, questo è il discorso, quindi quello che noi stiamo facendo, ci inventiamo che siccome i dati storici sono stati positivi per tot anni, allora saranno così anche i dati futuri ed è bellissimo anche tra le altre cose ragazzi, vedere chi fa questo tipo di ragionamenti che si autoprende per il BIP da solo perché a un certo punto vi dice che fare previsioni sui dati storici non è possibile, quindi l'analisi dei grafici è inutile, però poi l'analisi di lungo periodo ha senso, quella di assenso che si basa sempre sui dati storici, quindi allora ha senso solo quello che gli serve per risolvere cosa? Il bias cognitivo dell'ancoraggio ragazzi, c'è questo bias cognitivo che è inevitabile, ce lo abbiamo tutti. Allora lo possiamo risolvere in due modi, quindi il primo modo è quello più scontato, il lungo periodo risolve tutto, favolo di generente, la biancaneve ai 7 nani, se funziona funziona, finora ha funzionato, se funziona anche fra 20 anni sono salvo, se non funziona ti saluto come si dice e ciao, perché ovviamente una vita nuova non ce la danno per riprendere e fare le cose in maniera diversa, quindi state giocando con la roulette russa in sostanza, è quello il concetto. Però la probabilità negli anni scorsi è stata molto alta, perciò potrebbe in effetti funzionare, quindi questo bias cognitivo con il pensiero di invenzione del lungo periodo lo risolvete e si risolve. Oppure c'è il modo tecnico ragazzi, cioè quello teoricamente un po' più intelligente, ovviamente non è per tutti e questo io ne sono consapevole, infatti sono d'accordo al concetto che ci deve essere il pensiero del lungo periodo, perché per molte persone è più utile far quello ed è giusto in questo modo, però bisogna anche spiegare che è una favola, cioè non bisogna dire quella è la verità assoluta quando stai palesemente inventandoti una favola, quindi concettualmente io dico ok, quello usiamolo perché serve, è una cosa che serve, no? È come diciamo l'antidolorifico e va bene così, no? Però andiamo a vedere anche se esiste un modo per curare la malattia, magari non l'antidolorifico e basta, andiamo a vedere se esiste un altro modo e quel modo è elaborare scenari, cioè farci comprendere quello che sta succedendo, alcuni di noi non sono fatti per la superficialità e la banalità nel dire, ah poi si risolve così, non si capisce dove, come quando, la manna dal cielo che cade, alcuni sono fatti per andare oltre, andare a farsi un tuffo nell'acqua e scendere un po' più in basso, non andare a stare sul pelo, stare lì, ok? Superficialità, superficialità, ragazzi, alcuni di noi, il 15% circa, sono fatti per andare a fare deep dive, no? Andare sotto, andare a immergersi e vedere cosa c'è veramente sotto il mare. E questo concettualmente vi porta a questa questione, se siete quel tipo di investitore e di trader, siete obbligati a essere formati perché dovete comprendere gli scenari e vi risolvete l'effetto ancoraggio. In questo modo, se io so dove sono, so quello che sta succedendo, quale scenario si sta verificando, non vado a imporre i prezzi di breve periodo, o alle informazioni come quelle purtroppo ieri negative sulla questione bellica, troppo peso per il mio obiettivo da investitore. Vado a dargli il peso giusto, cioè in questo contesto, per esempio, tutto sta andando verso lo scenario della deep che noi dobbiamo utilizzare per fare buy. Questo è il discorso, quindi in questo contesto io non ce l'ho il concetto dell'ancoraggio, non sto sovrappesando le informazioni di breve, le sto analizzando nel modo giusto. E questo è molto, molto importante, ragazzi, ok? Poi, terzo bias cognitivo, il bias della confirmation bias, famosissimo, lo conoscete, errore derivante dall'eccesso informativo, interpretare le informazioni a proprio favore cercando quella che conferma la decisione del trader. In un contesto del genere il confirmation bias ce l'hanno tutti holder compresi, ancora una volta, cioè gli holder, per esempio, in questo contesto si autoconfermano dicendo, sì, ma tanto recupera nel lungo periodo. E in questo caso io sono anche convinto che abbiano ragione, ok? Però è in questo specifico caso. Concettualmente è giusto questo modo di superare il confirmation bias, però in pratica alcuni altri cosa stanno andando a fare? Magari quelli che non sono proprio totalmente senza informazione sono andati a guardare qualche graficuccio, a leggere qualche news, cioè stanno cercando qualche informazione che conferma che poi le cose si riprendono. In pratica sono vittima del confirmation bias. Confirmation bias che ancora una volta, ragazzi, ha l'unico scopo, quello di farci incorrere in un errore, cioè se noi abbiamo conferma della nostra operazione restiamo nella posizione attuale. Se noi non abbiamo conferma ci viene sulla paura e facciamo magari un'operazione. Sono errori entrambi. Perché se noi cerchiamo la conferma di una situazione attuale per restare nella stessa identica posizione, vuol dire che non avevamo sviluppato una strategia prima. E non avere sviluppato la strategia prima vuol dire che al 100% quello che stai facendo è frutto del caso. Tutto quello che succederà da qui in poi è caso, casualità, randomico. Cioè non hai nessun controllo su quello che sta succedendo e non potrai mai farlo perché in questo momento sei vittima del bias, di confirmation bias. Quindi in questo contesto il tuo cervello, la tua mente sta cercando di trovare giustificazioni. Tu non hai la mente lucida, non puoi fare in questo contesto alcun tipo di ragionamento razionale. A meno che non sei estremamente preparato agli anni e anni di esperienza e non subisci questo confirmation bias. Questo è vero, c'è possibilità, però sono veramente limitate. Se invece hai la strategia preparata, avevi lo scenario già studiato, sai quello che sta succedendo. Anche l'holder che dice io di questo movimento non me ne faccio nulla. Come vi ho detto ragazzi, holding dallo scorso anno, febbraio 2023, ancora adesso non dovete fare nulla. Secondo me è così e continuo a dirlo. Quindi anche l'holder dice io non devo fare nulla. Quella è una strategia. In questo momento l'ha sviluppata la strategia. La conosce, la sa. Quindi nel momento in cui l'ha sviluppata non subisce il confirmation bias. Ma se non avete sviluppato una strategia, non sapete quello che state facendo, non avete il concetto, non avete l'idea di quello che state facendo, in questo momento siete su una montagna russa ragazzi. Confirmation bias, state andando lì, leggete le notizie. Ah ma non è vero, ah ma quello è così, ah ma il grafico ha detto quello, ah ma l'indicatore X ha detto quello. Questa roba si risolve eliminando tutto quello che c'è da eliminare. Eliminate la confusione perché più informazioni avete nell'ambito trading, peggio è, non meglio, peggio è perché nel momento in cui i mercati non hanno una capacità di essere predetti, non abbiamo la capacità di predere i mercati utilizzando tecniche magiche. Questa cosa non può esistere. Quindi più roba cercate da questo punto di vista, peggio è perché ancorrete nei bias di natura di questo tipo e fate l'errore di vedere l'indicatore XY che vi dà la conferma, magari mettete in mano all'operazione, una volta ci beccate pure e dire, ah ho trovato, invece non è vero niente che è casualità. È semplicemente randomico, questo è il discorso e quindi l'unico modo ragazzi di farlo è avere la strategia prima che avvengono questi eventi. Quindi dovete essere capaci di sviluppare un trading plan, una struttura che vi porti a evitare questo problema e questo è importantissimo ancora una volta. Ultimo è bias di oggi ragazzi, eccolo qui ed è il classico confirm bias relativo all'avversione, alla perdita ragazzi. Allora, questo bias è molto famoso, cioè noi preferiamo ovviamente non perdere le cose, sapete bene come funziona nel momento in cui vi danno un gelato, siete contenti, dice ok, ah mangio un gelato nel momento in cui ve ne danno due e ve ne tolgono uno, non siete più contenti eppure avete sempre lo stesso gelato di prima. Però in quel caso la perdita, cioè l'assenza del secondo gelato, vi impone di essere tristi. Allora questa è l'avversione alla perdita tutti gli esseri umani siamo così, abbiamo due regali, siamo contenti, ce ne tolgono uno siamo infelici, abbiamo un solo regalo, siamo contenti. Cioè è ovviamente una cosa senza senso, perché siamo avversi alla perdita, abbiamo l'avversione alla perdita come bias. Allora, cosa impone, cosa fa questo avversione alla perdita al trader e all'investitore? Gli fa cambiare la propria strategia per non subire una perdita. Nel momento in cui siamo in una situazione del genere, magari qualcuno di voi era senza formazione, senza studi, senza scenari ipotizzando di diventare iper miliardario con i prezzi di Solana che arrivano a 7 milioni di dollari l'uno, a un certo punto ha detto qui in questa fase io non so che cosa fare. Quindi, ah sto perdendo troppo, ho fatto il meno 24, un mio Dio che sta succedendo, forse ho sbagliato, dovevo vendere. Allora tutto questo discorso qui è l'avversione alla perdita, ma a un certo punto gli viene in mente una cosa e dice, ah vabbè ma io cambio adesso la strategia, non faccio più questa strategia, ne faccio un'altra, così non vendo. Cioè in sostanza gli investitori e i trader, quasi tutti gli investitori attuali di lungo periodo sul mercato delle criptovalute, sono nati nella bear market del 2022. Cioè quando, quando tutto crollava, allora a un certo punto sono diventati holder, cassettisti, ah non vendo perché ora recupera poi nel lungo periodo. Cioè hanno modificato la propria strategia per non subire la perdita, proprio per questo bias è l'avversione alla perdita. Quindi va a modificare la strategia perché dico io non voglio perdere. Quindi sono entrati senza formazione, senza idea di che cosa stava succedendo, senza sapere scenari, senza avere esperienza, senza avere analisi e tutto il resto. Sono entrati nei mercati, sono andati lungo magari per un po', qualcosa è andato bene. Poi è crollato tutto, a un certo punto non avevano strategie, magari non erano entrati per dire faccio 10.000 euro e poi esco. A un certo punto ne facevano 20.000, da 20.000 si sono ritrovati a meno 15, non sapevano che cosa fare, ah l'investimento adesso è diventato di lungo periodo, lo tengo a vita tanto non mi serve. Allora, questo meccanismo, e molti di voi in cui stanno vedendo questo video l'hanno sicuramente subito, è l'avversione alla perdita. Ancora una volta, questo non è colpa di nessuno, non siamo né scemi né niente, siamo umani, tutti siamo fatti così. Chi magari lì gestisce meglio i propri bias cognitivi, chi un po' peggio, ma in sostanza siamo tutti uguali. Stessa barca, stesso calderone. C'è un modo di risolverlo in un modo più geniale, più intelligente, la versione della perdita? Sì, rispettare una strategia. Avere la vostra strategia, avere la vostra strategia. Qualche giorno fa, ragazzi, il mio sistema holding, quello che utilizzo per una parte del mio holding, perché io non faccio un holding alla cieca, ragazzi, ovviamente, con una parte ovviamente a vita, perché sono bitcoin vecchi vecchi, li ho minati e quindi tantissimi anni fa li tengo a prescindere, diciamo, come ricordo. Però, concettualmente, alcuni di questi, e poi mi servono anche per un cosetto, insomma, per risolvere un problema di bias ulteriore, quella cosa lì. Però, alcuna parte, io li faccio seguire da una strategia che è migliorativa in alcune fasi, non tanto in altre, mi piace tanto e non quanto. Comunque, nei giorni scorsi avevo detto, più volte nei miei video, è andata in stop, è andata in stop, è andata in stop. Allora, il secondo stop che faceva di seguito questa strategia, è uno stop anche pesantuccio, perché io comunque la uso per posizioni importanti in termini di valore. L'ho seguito, ragazzi, non sono andato in linea a dire, ah, adesso recupera, sta sbagliando. L'ho seguito, va bene, ed è uscito a 66 e mezzo, una cosa del genere, adesso non mi ricordo, 66 e qualcosa, ragazzi. 66 è meglio di 64 o 60, come siamo andati ieri. Poi non c'entra il reingresso, probabilmente, magari, non fa bene l'ingresso, quella è una strategia, eccetera. Però, concettualmente, l'idea è rispettare i piani. L'ho rispettato anche se io, personalmente, non volevo chiudere quella posizione in perdita, e lo stesso hanno fatto tutti gli scritti in Academy, dove io pubblico queste cose, ragazzi. Però, queste robe, noi dobbiamo accusarle, no? Dobbiamo subire questa cosa qui, cioè rispettare disciplina sulla strategia, in modo tale da eliminare dei rischi, che sono quelli attuali. Perché se questo movimento perdurerà per un mese, due mesi, noi siamo fuori, respiriamo e soprattutto abbiamo lucidità nel fare la dip, che è la nostra strategia, cioè nel tentare poi gli acquisti al momento giusto, che è quello che io sto cercando di fare per i prossimi mesi. Ed è quello che è la mia logica. Io mi devo indirizzare su quello, non devo subire l'avversione alla perdita che mi confonde. Allora, per non farlo, strategia e disciplina. Va bene, ragazzi? Questo è il discorso. In parole povere, come si risolvono queste cose? Come si ha un Bitcoin senza errori, una capacità di investire e di fare trading senza errori? Punto numero primo, è impossibile eliminarlo. Io spido chiunque a dire che questa cosa non sia vera, ragazzi. Formazione. Ah, guardate bene, la formazione serve anche per gli investimenti passivi nel mercato classico. A parte che nei mercati crypto non si possono fare quei tipi di ragionamenti, ma nei mercati classici serve comunque la formazione. È importantissima. Non fate il trading, è questo ok, in molti casi sono d'accordo, però nell'ambito in cui non vi serve formazione, no, ragazzi, è. Formazione, serve comunque. Poi, secondo punto, esperienza. Questo è un altro punto. L'esperienza, ragazzi, vi cambia la vita. È ovvio che più si hanno esperienze in questi ambiti, meglio riuscite ad operare. Quindi buttateci le mani in pasta, state dentro, perché anche se non fate il movimento, se non fate il trade, anzi non lo fate se non avete formazione, però in quel modo riuscite a comprendere delle logiche di mercato. Ragazzi, ho imparato tanto nelle mie precedenti fasi di crisi, quando c'era lo scoppio della bolla di internet, eccetera. A me mi hanno dato tanto quelle cose lì. Se non avessi avuto quelle esperienze, mai sarei riuscito a cavalcare il mercato cripto in un certo modo, anni e anni or sono. Non l'avrei mai fatto, ragazzi. E non, quando io vivevo quelle esperienze negli anni scorsi, non potevo mai immaginare che sarebbero state poi il seme di quello che sarebbe venuto dopo 15 anni. Ma chi lo sapeva, ragazzi? Nessuno poteva farlo, eppure vi assicuro che è così. Poi, eliminare l'eccesso informativo. Questo è, ve lo dico, da quando ho aperto il canale. Meno informazione possibile, più formazione possibile. Meno roba, ragazzi. Non vi serve. I mercati sono randomici, quindi non andate a vedere il rumore dei mercati. Concettualmente ragionate su quelle che sono le tecniche che servono a voi per il vostro operato e basta. Non cercate di rendere perfetta una cosa che non lo può essere. Per cui andate a eliminare le informazioni. Non aggiungete tanta canna al poco. Abbiate la focalizzazione sull'obiettivo principale, in questo caso per noi, cercare la buy the dip più importante pre-burn run, ragazzi. Magari non avverrà mai questa burn run, ma se avverrà questa burn run, sapete benissimo quello che stiamo facendo e questi video resteranno storici come i precedenti nella precedente bull run. Va bene, detto questo, ragazzi, vi ricordo che tutte queste cose noi le stiamo affrontando anche in Academy e stiamo cercando di operare. Tra le altre cose ho visto una certa tranquillità nella mia Academy ieri. Ero andato anche intorno a luna di notte a vedere cosa succedeva e sono stato contento di vedere un po' di tranquillità. Pochi messaggi. Sono molto contento di questa cosa. Vuol dire che sta funzionando un po' tutto quello che deve funzionare. Formazione, esperienza ed eliminato accesso informativo. I bias ve li ho detti. Ultime ore per la super offerta dell'ultima tranche di formazione C30 in Basics 2.0. A questo prezzo riuscite ad avere anche 100 dollari di sconto da parte di BitGet. Dovete registrarvi dal link che vi lascio io però, ragazzi. E vi accreditano questo bonus trading da 100 dollari e tra le altre cose è importante per fare anche le prime esperienze. Detto questo, buona domenica a tutti. Noi ci vediamo domani invece per il video quello di natura tecnica formativo. Spero di aver chiarito tanti dubbi con questo video. Lo so è lunghetto ma era importante dirvi queste cose. E io sono sicuro che come tutti i video più importanti di tutti avrà poche views. Perché i video che hanno views su YouTube sono quelli di intrattenimento. E questo è un video, ragazzi, ok? Ciao!